2012 edizione numero 12 dell'Expo La Vis, Fabrizio Scicchiere, Presidente, com'è andata secondo te? Abbiamo già iniziato ieri con una bella inaugurazione, con presenze della provincia e anche abbastanza pubblico e oggi diciamo è iniziato presto, essendo che è cambiata l'ora e per tutta la giornata abbiamo avuto una lotta di gente. Cosa chiedono soprattutto? Sono interessati, controllano, guardano, noi proponiamo ogni anno qualcosa di nuovo, un modo da avere sempre richieste di prodotti nuovi.